ciao ragazzi quindi oggi facciamo un nuovo video collaborazione col canale di ausilia donna quindi dimple ha deciso di preparare una favolosa ricetta originale in filippina che è chiamata empanada so what are you doing now? I put the mixture of flour, sugar, salt... quindi ha messo due chili di farina, 2 kg, 2 kg, mezzo chilo di farina, sale e 3 cucchiaini di zucchero one spoon of yes e lievito un cucchiaino di lievito poi 100 g di burro va a mixare con acqua calda e fa un mix ok adesso è pronto ok abbiamo bisogno di un'ora e mezza per lasciare crescere la pasta quindi questo è il ripieno quindi ha tagliato il pollo in quadratini e anche le patate le ha tagliate a quadratini quindi le ha aggiunto cipolle e aglio poi ha aggiunto il pepe nero quindi quanti minuti? so quando diventa tenera la carne è pronto e sarebbe il ripieno e aggiungiamo un po d'acqua quindi come potete vedere il ripieno è pronto quindi ha aggiunto gram turco adesso aggiungiamo questa salsiccetta di qua il pollo quindi è un ripieno sarebbe una un'empanata, un'empanata sarebbe una sorta di focaccia, delle filippine ottima che è molto croccante quindi questo è per il ripieno ok è pronto? provo ok provo provo e io aggiungo anche un po' di zucchero di canna quindi ho aggiunto anche un mezzo picchiaino di zucchero di canna ok è pronto, ora stiamo preparando per l'empanata quindi adesso l'impasto è pronto, quindi fa le palline ok, esprimiamo? non ho mai messo il pepe nero? dopo questo ho diviso prima quindi prima fa delle palline, diciamo di pasta ok quindi in half kilo possiamo avere quanti pepe? quindi può fare due o tre quattro c'è possibile possiamo avere tre, 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 tre quattro? quindi 15 15 15 15 possiamo avere 15? sì 16 16 quindi 16 palline con mezzo chilo quindi adesso fa delle palline lisce adesso dice che aggiunge il ripieno poi dopo che mette il ripieno poi li mette nel forno per riposare quanto? 30 minuti 30 minuti quando vede che sono cresciute poi continuiamo la preparazione quindi questa è la panada adesso Debbie ci fa vedere il suo metodo quindi usa un bicchiere e fa una specie di pizza puoi mettere il ripieno e chiude questo c'è il focaccio e poi va con la forchetta come un raviolo ecco qua impanata poi ha messo l'olio nella teglia ed ecco qua le nostre impanate le nostre impanate filippine quindi come potete vedere adesso sono pronte si sono cresciute un pochettino gli ha dato questa forma e adesso le ha messe in forno quindi stiamo aspettando che che siano pronte ecco qua le famose impanate quanti minuti quindi 30 minuti in forno guardate che meraviglia come sono rite che meraviglia buonissime bellissime anche da vedere come delle focacce praticamente quindi adesso andiamo a assaggiarle quindi come potete vedere sono pronte quindi ti piace? puoi aprire? per vedere come è dentro si? si molto quindi ecco qua buon appetito per lunch che meraviglia puoi aprire una? che meraviglia guardate ragazzi quindi sono specie di focaccette però qua le chiamano un panada quindi vado all'assaggio che meraviglia però ci vuole il ketchup con queste penso sono una meraviglia dimple si è proprio superata perché è la prima volta che prova questa ricetta quindi è molto semplice ha solo due stelle di difficoltà quindi potete provarle anche voi quindi adesso potete passare alla video ricetta di Ausilia Donno e passate nel suo canale e anche nel nostro che siamo X Mandre di Impulse Family quindi passate in entrambi i canali Ausilia Donno che fa video di psicologia ma anche di ricette ma anche di natura di ortaggi è molto incoraggiante i suoi video sono molto emozionanti è una bravissima youtuber quindi aiutate a crescere lei e passate anche nel nostro canale X Mandre di Impulse Family che portiamo dai videogames ai travel vlog perché alle volte andiamo nelle spiagge o a vedere dei posti bellissimi quando facciamo dei viaggi perché io e mia moglie ci piace molto viaggiare quindi alle volte andiamo nuove città a esplorare e anche a me piace portare i miei allenamenti i video di Bruce Lee e i videogames quindi continuate a seguirci ciao quindi adesso potete vedere la video ricetta di Ausilia Donno che è cefalo fresco non di allevamento perché questo tipo di pesce va in profondità nel mare ed è ricco di Omega 3 perché quando va in profondità mangia il plankton e poi sale su i pescatori lo prendono e quindi è molto fresco e Ausilia la cucinata con gli spaghettoni integrali quindi è bellissimo da vedere e da mangiare quindi ecco la video ricetta ciao vi siete accorti che avete pulito tutto la parte interna come vedete è bella bianca la pelle vedete poi stanotte quando verranno messo di qua nell'acqua domani cioè quello che rimane insomma rimane fuori poi verranno tolte fatte di qua le scarde non le chiamiamo scarde le scaglie sarebbero esterne con il coltello dal basso sott'acqua è meglio perché sennò vi riempite la faccia e tutta la casa vi scarde l'ho fatto in questo modo ovviamente sotto l'acqua corrente ma io sto in altro posto in questo momento dove spostare quindi una volta ho fatto questo lavoro e accuratamente levate tutto ripeto lo mettete qui con tantissimi limoni che vedete questi qua sono del nostro albero grazie a Dio e ne metterò ancora questa notte all'ultima parte interna che se ancora c'è un po' di nero verrà via e poi domani stesso visto che adesso siamo sono esattamente le 10 ecco domani quando è riuscito al lavoro verrà fatta vi faccio della ricetta ciao ciao ragazzi non si vede ma non si vede qui c'è il pesce con i limoni dentro vedete anche il livello dell'acqua poi l'ho coperto con questa e lo metterò in frigo quindi sarà praticamente non 24 ore molto meno ma per levare le ultime diciamo in pulità e poi verrà cotto cioè ciao nel sugo vi farò vedere a voi e poi ciao ragazzi buonanotte allora ragazzi questo è il pesce non so se lo vedete bellissimo l'occhio come qua è cotto vedete qui c'è il prezzemolino e il sughetto e adesso qui ovviamente ci sono gli spaghetti integrali ci andrò ad aggiungere del pesce ragazzi vi faccio vedere tutti i limoni che ho utilizzato che questa notte l'avevo detto prima nell'altra parte del video adesso ci metterò praticamente un po' di sugo poi un po' di prezzemolo di sopra che non lo trovo qua vicino quindi fate finta che c'è un po' di prezzemolo di sopra e un po' di piccante e un po' di piccante anche se qui dentro il piccante c'è poi invece il pesce lo metterò su un altro piatto e in questo modo lo potrò spinare lo spinnerò e niente lo servirò a parte e poi ci stanno e poi ci stanno le altre verdure ma penso che conti poco ragazzi il prezzemolo sta qua devo soltanto levare quello giallo che non è buono e utilizzare quello verde lo farò con calma dopo l'importante è che vedete questo e gli spaghetti che a breve impiantterò e assaggerò ciao ragazzi ecco a voi gli spaghetti terminati spaghettoni veramente sono e con il prezzemolo e niente adesso poi condirò gli altri piatti ma insomma questo era il piatto che volevo farvi vedere e ragazzi si mi verrebbe volete assaggiarlo però non è proprio una cosa carina va pazienza dai e il sugo l'ho messo volutamente così su intorno al piatto invece di mettere il limone che non c'entra niente perché il sugo è cotto il limone sarebbe proprio un acido in più cioè qualcosa di acido che non c'entra con il sugo ovviamente il pesce ragazzi prima di metterlo nel sugo dopo averlo scagliato bene e pulito e levato il sangue l'ho messo in pentola inaderente e poi l'ho girato prima da una parte e poi dall'altra l'ho levato e l'ho messo in un piatto a parte poi ho fatto questo meraviglioso sugo e ovviamente con anche dei pelati di vella e ci ho aggiunto anche della colpa poi ci ho messo tutti gli odori lo smarino e una foglia di alloro le varie spezie che utilizzo sempre io una punta proprio di sale ma una punta non di più perché ripeto io sono contro il sale e niente poi l'ho messo nel sugo dopo più o meno 30 minuti che il sugo stava già con l'aglio dentro era partito tutto in sé insomma aglio peperoncino e salsa di pomodoro e niente poi alla fine dopo 30 minuti ci ha aggiunto il pesce che è stato dentro per altri 20 minuti erano tre pesci quello più grande vedete dall'occhio quando si è cotto o spento e alla fine ragazzi è venuto fuori questo meraviglioso piatto di spaghettoni e il cefalo perché questo è sono cefali che una volta che io li faccio il sugo ma mi hanno detto che sono ottime almeno la moglie del signore che ce li ha portati perché li ha pescati freschi ieri l'acqua viva delle fonti e invece il pesce è questo che non voglio rovinare poi ripeto spinnerò e metterò dopo su un altro piatto ragazzi alla prossima quindi questi sono spaghettoni al cefalo al sugo sempre spaghettoni integrati ovviamente ciao ciao ragazzi vi lascio su questa immagine ciao ciao a tutti ragazzi questo è il pesce che ormai abbiamo già finito e lo abbiamo spinato in questo modo è stato spinato quindi niente spine le altre sono state messe da parte per i gattini e ragazzi su ci metto un po' di prezzemolino ancora ed è la fine del mondo buonanotte a tutti buona cena buona serata o buongiorno buon pranzo vedete un po' voi ciao ciao ragazzi alla prossima il prossimo sarà un video di ringraziamento per voi tutti ragazzi ci vediamo ciao ciao